Benvenuti su TG7 Basilicata. La Task Force regionale comunica che ieri 27 novembre sono stati processati 1.586 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 221 e fra questi 210 residenti in Basilicata sono risultati positivi. Le positività riscontrate riguardano 5 persone residenti in Puglia e lì in isolamento, una persona residente in Campania, una persona residente in Campania in isolamento a Potenza, una persona residente in Lombardia in isolamento a Rotonda, due persone residenti in Calabria, di cui una in isolamento a Rotonda e l'altra in isolamento a Lago Negro, una persona residente in Puglia ed in isolamento a Potenza, sei di Avigliano, di cui 1 in isolamento a Potenza, 4 di Barile, 1 di Bella, 3 di Bernalda, di cui 1 in isolamento a Ferrandina, 9 di Calvello, 1 di Campomaggiore, 3 di Cancellara, 1 di Colobraro, 1 di Corleto, 3 di Ferrandina, 1 di Garaguso, 1 di Grassano, 4 di Lago Negro, 10 di Lauria, 1 Marsico Nuovo, 4 di Marsico Vetere, 44 di Matera, 3 di Melfi, di cui 1 in isolamento a Lavello, 1 di Montalbano Ionico, 1 di Montemilone, 5 di Montemurro, 6 di Montescaglioso, 4 di Muro Lucano, 2 di Novasiri, 2 di Palazzo San Gervasio, 1 di Picerno, 4 di Pignola, di cui 1 in isolamento a Potenza, 8 di Pisticci, 2 di Policoro, di cui 1 in isolamento a Novasiri, 54 di Potenza, di cui 1 in isolamento a Lago Negro, 1 in isolamento a Pignola e 1 in isolamento a Rioniero, 2 di Rapolla, 2 di Rivello, 1 di Rotonda, 1 di San Chirico Nuovo, 1 di Sant'Arcangelo, 1 di Sarconi, 1 di Sassodi Castalda, 2 di Satriano, di cui 1 in isolamento a Potenza, 1 di Spinoso, 2 di Tito, di cui 1 in isolamento a Potenza, 2 di Tricarico, 3 di Vaglio, 1 di Vigiano. Sempre nella giornata di ieri risultano guarite 104 persone. Ieri inoltre sono decedute 3 persone, 1 di Vietri, 1 di Calvello, 1 di Venosa. Negli ultimi giorni in FCA ci sono stati 15 persone positive al Covid.